Sono Fabio Olivieri, uno dei proprietari di questa azienda. Facciamo questa attività di supermercati da 1998, l'ambiente è bello, che ti gratifica e che sinceramente ti dà tante soddisfazioni. Siamo nati con un solo supermercato, adesso ne abbiamo 5 e siamo 55 dipendenti. Queste sono le gratificazioni maggiori perché poi la gente risponde, la gente è enusiasta, la gente ti chiede, tu dai le risposte, quindi quelle sono le cose più importanti che ti portano a gioire e a investire nell'attività. Siamo su Schiavonea, Fiale Salerno via Provinciale e siamo via Walt Disney allo scalo e via Nazionale. Grazie a tutti.